Questo racconto delle scritture, scritture graffite in particolare, questo ciclo di lezioni è dedicato alle scritture che non troviamo all'interno dei manoscritti, poi naturalmente avremo anche occasione di fare delle passeggiate sulle scritture dei manoscritti, però questa sera è dedicata la lezione interamente a un aspetto della scrittura soprattutto nei secoli medio-alti del Medioevo e in particolare all'uso e alla funzione che la scrittura aveva e intendo con questo non tanto certamente di veicolare un testo, ma soprattutto alla funzione anche dal punto di vista della sua espressione grafica, la funzione che poteva avere in termini di riconoscimento da parte della società o di un gruppo sociale degli scriventi e dall'altra parte anche un problema di alfabetismo che come avremo occasione di vedere di qui a pochissimo, non sempre un alto grado di alfabetismo corrisponde all'appartenenza dello scrivente alle zone alte, alle aristocrazie delle società medievali, anzi spesso e volentieri troviamo una percentuale di analfabeti stabilmente piazzati nelle parti medio-alte delle società laiche del Medioevo. Ma a questo punto io condivido immediatamente il PowerPoint nella, naturalmente, il signore mi assista, come di consueto. Visto, ha assistito. Alle volte assiste, vedete? Scusate, non devo tornare. Il signore, il signore, ragazzi. Il signore, come dire, mi ha la pazienza e vai indietro te. Quando bisogna, quando controllo il PowerPoint dovrei avere sempre l'accortezza di tornare sulla prima di slide, ma in realtà poi io me ne dimentico regolarmente, quindi sempre meglio dei tempi, delle diapositive che volavano per aria ogni conferenza. Allora, come potete vedere da questa collezione di sgorbi, questa collezione di graffiti, che poi peraltro sono i graffiti di Santa Maria e Stelle, che saranno parzialmente trattati in questa lezione, ma soprattutto nel corso della prossima, cioè del ristorante da dove ho iniziato questo ciclo di lezioni. Il tema della lezione di questa sera è dedicato in particolare alla firma dell'uomo, inteso come essere umano, l'uso della scrittura e la consapevolezza di sé. Cioè, è possibile immaginare che un certo tipo di scrittura possa corrispondere alla consapevolezza o alla autoconsapevolezza che nel corso del Medioevo hanno avuto di sé molti degli scriventi? Questa è una domanda che ci si è posti e rispetto alla quale ci sono state date varie risposte e cercherò un pochino di inquadrare il problema. Ora, chi scriveva nel Medioevo? Questa è una domanda abbastanza, come dire, che ci si è posti nel corso del tempo, degli studi della paleografia, degli studi della funzione, della scrittura, dell'alfabetismo nelle società e, grosso modo, andando veramente per grandi categorie, possiamo dire che gli scriventi in realtà non professionisti erano veramente pochi. E gli scriventi professionisti, invece, notai, copisti, sono loro di fatto che detengono la cultura scritta nel corso di una ampia fetta del Medioevo, possiamo dire che rispetto al numero complessivo o quasi quello che immaginiamo della popolazione nel Medioevo, questa categoria di scriventi professionisti era veramente molto ridotta. Poi ci sono altri, invece, come dire, altri scriventi che si muovono all'interno di stilizzazioni, modi di scrivere e non sempre di altissimo livello, che si muovono, ripeto, all'interno di questo tipo di produzione e che non possiamo paragonare a scriventi professionisti, sono laici o ecclesiastici i membri del clero o anche monaci che sanno scrivere ma che spesso e volentieri non vanno molto al di là di quello che è stato un primo sistema di insegnamento, cioè la cosiddetta elementare di base. Il mondo degli scriventi sostanzialmente si divide in due grandi categorie, due poli, chiamiamo così, va bene? I copisti, che erano attivi nei monasteri, nei centri ecclesiastici urbani e dall'altra parte abbiamo eventualmente il mondo dei notai, dei giudici, qualche volta laici, qualche volta invece appartenenti al clero. Al di fuori di questi l'alfabetismo era veramente molto poco diffuso e gli studi che si sono espressi su questo tema specifico hanno indicato molto chiaramente che la riduzione dell'alfabetismo a partire dal VII secolo d.C. è stata sensibile rispetto al mondo romano dove invece noi sappiamo che l'alfabetismo era veramente molto elevato. E sull'alfabetismo e i graffiti romani tornerò con un'altra lezione. Ora, per poter definire l'alfabetismo e per poter naturalmente ragionare su questi scriventi che, ripeto, non facevano della scrittura il loro mezzo di sopravvivenza, di sussistenza, va bene? Noi dobbiamo vedere un pochino, dobbiamo vedere quali sono gli strumenti che noi abbiamo a disposizione per dire è uno scrivente di alta qualità, è uno scrivente di media qualità, è uno scrivente che tutto sommato ha imparato a scrivere, e lì si è piantato, non ha fatto un passo avanti rispetto alla sua capacità di scrittura. Qui vedete, per esempio, in questa immagine, in questa slide, vedete una serie di scriventi, questi sono tutti graffiti, questo è un rilievo, vedete una serie di graffiti, Ego Domenicus, probabilmente si tratta di un presbitero, oppure di un Giovanni, anche lui un presbitero, che sanno scrivere, sono degli scriventi con una buona capacità di scrittura, mentre invece abbiamo degli altri rispetto ai quali qualche piccolo dubbio lo abbiamo. Poi abbiamo Sergio che ama Anna, e questo lo scriveva il 3-6, voglio immaginare che questa X corrisponde a un qualche 10, così andando, mi pare che Sergio potrebbe serenamente migliorare la sua capacità grafica, siamo nello stesso contesto, va bene? E per definire la scrittura, noi parliamo di tre livelli, cioè la scrittura usuale, la scrittura normale e la scrittura elementare di base. La scrittura usuale è quella dei professionisti della scrittura, i notai, i copisti, laici, ecclesiastici, la cosa non muove la definizione, va bene? E hanno una elevatissima capacità grafica, sanno scrivere bene, addirittura possono anche modificare le scritture, cioè possono avviare dei processi di trasformazione delle scritture. Sono persone normalmente con una elevata capacità grafica e sono pienamente coerenti con le loro scritture ai sistemi scrittori che noi troviamo attraverso i secoli, per cui un notaio in Italia settentrionale nell'ottavo secolo scrive in corsiva nuova, i miei notai scrivono in corsiva nuova, sono scriventi usuali. Poi abbiamo la scrittura normale, cioè la scrittura ideale, il modello, per intenderci, al quale si fa riferimento volontariamente o involontariamente quando si scrive e questo un pochino lo abbiamo tutti impresso nella mente, cioè quando abbiamo imparato a scrivere, abbiamo imparato a scrivere con determinati modelli, maiuscole, minuscole, corsive e via dicendo. Poi nel corso degli anni abbiamo modificato la nostra scrittura fino ad arrivare ad essere scriventi che potremmo definire oggi, la maggior parte degli scriventi possiamo definirla con una elevata capacità grafica o quasi, perché in realtà ci sono anche problemi di analfabetismo di ritorno. E poi ci sono gli elementari di base, nei quali qui vedete uno spettacolare esempio di un qualcuno che ha scritto, questo l'ho preso naturalmente da internet, mi hai preso il cuore e qualcuno giustamente sopra, sotto, glossa anche il libro di grammatica. Cioè è un elementare di base. Lo scrivente che poi in realtà ha fatto con uno spray, una iscrizione, una scrittura su un muro, è uno scrivente che si vede facilmente, oltre va bene anche all'aver perso il libro di grammatica, non sa scrivere bene, non ha una forma della scrittura che in qualche misura possa indicare una capacità grafica elevata. possiamo definirla una scrittura elementare di base, cioè una scrittura che è rimasta ferma ai primi gradini, come vedete, l'iscritto dell'educazione scolastica. Spesso e volentieri, torno nel Medioevo a questo punto, alcuni degli scriventi erano fermamente bloccati su questa posizione di elementare di base. Utilizzavano la scrittura magari solo per scrivere il proprio nome, perché non avevano necessità di scrivere. Magari erano degli artigiani e che potevano sottoscrivere, cioè firmare in maniera autografa, un documento, ma non avevano necessità di ampliare la loro conoscenza della scrittura o mantenere l'uso della scrittura perché tutto sommato non gli serviva per il vivere quotidiano. Quindi le domande che noi ci poniamo nell'affrontare appunto la questione dell'alfabetismo sociale nei secoli centrali del Medioevo è la scrittura è un mezzo di rappresentazione e di autorappresentazione, cioè chi scrive attraverso la scrittura che cosa vuole dimostrare oltre alla propria firma naturalmente? Qualcosa di più? Un valore aggiunto? Io scrivo molto bene e quindi sono una persona qualificata? Oppure non hanno interesse nei confronti di questo atteggiamento? Cioè in questo mare che direi piuttosto vasto dell'analfabetismo diffuso del Medioevo Alto è centrale la scrittura era sentita, era percepita come un mezzo di autorappresentazione oppure no? Adesso proverò un pochino a entrare in questo tema, cioè che cosa possiamo dire rispetto a questo? Poi e possiamo anche dire e chiederci e porci il problema anche in altri termini gli scriventi, cioè esistono scriventi che attraverso proprio l'uso di particolari strategie grafiche, cioè modo di scrivere, scrittura più grande, scrittura espansa, scrittura più piccola, scrittura inclinata, si vogliono distinguere e intendono quindi distinguersi all'interno di una comunità di scriventi oppure no? Esiste in altre parole una gerarchia che possiamo mettere in relazione con una gerarchia anche sociale, nel senso ad un'aristocrazia possiamo far corrispondere un'elevata scrittura e quindi poter affermare con sicurezza l'aristocrazia scrive bene perché vuole autorappresentarsi. Ecco, questo è un problema sul quale tanta letteratura c'è naturalmente, ma non è che ce ne sia tantissimo, però è un problema che è stato affrontato a più riprese e sono state varie le proposte che sono venute fuori, cioè in alcuni casi si ritiene la scrittura un mezzo di autorappresentazione, in altri casi rappresentazione di una categoria di scriventi, in altri casi rappresentazione di un gruppo sociale che può essere, noi possiamo riferire, un gruppo, come dire, culturalmente definito e denotato da una serie di parametri ai quali anche possiamo assegnare un determinato tipo di scrittura, quindi ragioniamo per cerchi concentrici, va bene? La tradizionale suddivisione, però, tra gli scriventi laici e gli scriventi ecclesiastici, cioè questi due grandi poli che noi conosciamo a partire dal settimo e fino all'undicesimo secolo grosso modo, porterebbe a pensare in realtà ad una gerarchia di scriventi molto ben definita. Da una parte gli ecclesiastici, sempre teoricamente parlando, molto aggiornati sulla scrittura, gli ecclesiastici hanno dei centri di copia nei monasteri o presso gli episcopi, quindi teoricamente aggiornati costantemente su come si scrive, dall'altra parte i laici con le loro brave difficoltà nel maneggiare gli studenti scrittori a meno di non essere dei professionisti della scrittura. Questo panorama in realtà così un po' troppo semplificato è molto più complesso, molto più complicato, molto più articolato se vogliamo e per poter un po' capire questa capacità degli scriventi che poi si riverbera sui graffiti, ho scelto di analizzare due contenitori. Da una parte le sottoscrizioni autografe, cioè le prove che i testimoni lasciavano attraverso la propria firma autografa del contenuto dell'autenticità, credibilità giuridica del contenuto di un documento e quindi analizzando questi scriventi ho cercato un pochino di vedere nei termini di alfabetismo e rappresentazione sociale della scrittura che cosa accade e dall'altra parte anche un altro grande contenitore che in qualche misura lo vedremo è direttamente collegato con questo che è quello costituito dai graffiti. La scelta dettata in particolare è dettata dal fatto che i graffiti così come le sottoscrizioni sono dei contesti degli ambiti di utilizzo della scrittura che non sono vincolati cioè in altre parole mentre la copia di un manoscritto esige il rispetto delle regole delle scritture in uso un documento esige determinate regole per la scrittura in uso per non parlare del documento pubblico che addirittura si arricchisce di una serie di elementi sulla scrittura stessa diversamente il graffito non ha bisogno di dimostrare nulla il graffito semplicemente lo si fa su una parete si incide in un tonaco in linea di massima si incide una pietra o quello che uno trova e non c'è la necessità di impostare la scrittura secondo le regole precise che sono quelle delle scritture in uso per intenderci nel nono secolo la scrittura in uso è nella gran parte dell'Europa in particolare alla fine del nono secolo la minuscola Carolina ci si aspetta di trovare un manoscritto in minuscola Carolina ma non è detto che gli scriventi invece fuori dai centri di copia fuori dagli scrittoria utilizzino necessariamente la Carolina cioè in altre parole sono più liberi di poter scrivere come gli pare e piace ho scelto per verificare quindi questa questa relazione tra autorappresentazione da una parte e qualità della scrittura dall'altra l'Italia settentrionale perché questo perché nel corso del secolo ottavo ex eunte alla fine dell'ottavo secolo ma in particolare con il nono secolo nel territorio italo centro e italo settentrionale è intervenuta una profonda modifica una radicale riforma della scrittura cioè si è passati da una scrittura che prende il nome genericamente di corsiva nuova o minuscole che possiamo definire come di tipo corsiva nuova verso la scrittura arrivata insieme ai manoscritti carolingi che prende il nome di minuscola carolina sono scritture profondamente diverse fra di loro e le dinamiche di penetrazione della minuscola carolina in Italia settentrionale viste attraverso i graffiti e le sottoscrizioni cioè viste attraverso la lente di ingrandimento su categorie di scriventi non professionisti permette di guardare con maggiore attenzione quelle che sono le trasformazioni effettive sulla media lunga durata della scrittura e l'impatto che la nuova scrittura ha e come e chi si adegua per primo e se soprattutto la scrittura nuova scrittura è o non è una scrittura di autorappresentazione ora il panorama italo-settentrionale tra ottavo e prima metà del nono secolo è caratterizzato da scritture di ambito documentario che prende il nome appunto di corsiva nuova che è in uso presso le sottoscrizioni autografe cioè quegli scriventi che noi troviamo nei manoscritti ed è in uso anche in molte scritture dei testi del libro cioè i copisti spesso utilizzano un sistema che più o meno si avvicina alla corsiva nuova e in qualche misura le scritture che noi troviamo autografe sono un po' meno soggette a vincoli rispetto al manoscritto il manoscritto è meno libero di interpretazioni personali anche per la corsiva nuova le sottoscrizioni e i graffiti diversamente sono molto più svincolati ora per valutare questo ho proposto e vi propongo di vedere per l'appunto i graffiti di santa maria e stelle perché qui ho degli scriventi che appartengono esattamente ai due mondi i laici e gli ecclesiastici presbiteri da una parte e scriventi laici non meglio qualificati dall'altro lato noi per l'italia settentrionale abbiamo tantissimi nuclei di graffiti per esempio Verona a San Zeno oppure la cassa reliquiario di Sanfermo il Rustico e sono in particolare la cassa reliquiario di Sanfermo il Rustico è databile negli anni che vanno tra il 759 e il 774 siamo proprio alla fine del regno dei Longobardi e lo possiamo datare bene perché lì compariono i due nomi associati del re Desiderio che aveva associato al trono ad Elchi quindi abbiamo una cronologia fissa dentro San Zeno abbiamo invece un'altra serie di graffiti presbiteri e ricordi di persone defunte anche qui con scritture alto medievali e abbiamo poi un invece caso straordinario che è questo per l'appunto di Santa Maria e Stelle i due grandi diciamo i tre grandi contenitori Santa Maria e Stelle Verona con San Zeno e i Santi fermi alla cassa reliquiario dei Santi fermi il Rustico in realtà in alcuni casi un po' fuorviante perché rispetto a gente che scrive di propria mano in quei casi noi troviamo qualcuno che scrive conto terzi cioè qualcuno che registra i nomi come presenti persone che in qualche misura sono state presso questi siti ma che o non sapevano scrivere o semplicemente si affidano ad uno scrivente presente in sito per esempio nella cassa reliquiario che noi conosciamo dei Santi Fermo il Rustico che vi dicevo è databile tra il 759 e il 774 insieme al testo che ci dice che lì dentro erano state deposte le reliquie eccetera eccetera abbiamo una serie di nomi tanti nomi in successione una quarantina all'incirca fra uomini e donne che fanno incidere il nome all'esterno della cassa lo fanno scrivere da un unico scrivente non sappiamo se questi siano in grado se sappiano scrivere oppure no oppure abbiano affidato come prova della propria presenza alla ricognizione delle reliquie ad uno scrivente lì presente la registrazione dei nomi credo che si tratti di un caso esattamente di questo genere ma naturalmente sarà difficile poterlo affermare con certezza invece il caso molto più significativo dal punto di vista degli scriventi cioè quelli che scrivono utilizzando uno strumento scrittorio che può essere uno strumento a punta rigida visto che lasciano graffiti su superfici ad affresco è il caso di Santa Maria in Val Pantena allora quello che voi vedete qui è la ricostruzione con le unità stratigrafiche di questa larva di affresco dove e questa è una larva di fotografia meglio la larva di affresco nella parte centrale dove sono con il cursore vedete la cosiddetta manus dei cioè la mano del signore radiante inserita all'interno di un clipeo decorato con delle ornamentazioni realizzate ai lati e un'iscrizione qua e qua la datazione di questo affresco è all'incirca alla fine dell'ottavo secolo ma non mi fermo più che tanto su questa perché poi torneremo con una lezione dedicata a questo a questo a questo a questo ipogeo e alle iscrizioni di Verona naturalmente e i graffiti che noi troviamo corrono lungo questa zona ma assolutamente non vanno a depositarsi sulla manus dei che vedete qui quindi mentre hanno più o meno devastato tutta questa zona qua non c'è traccia di graffitto questa è una cosa abbastanza diffusa i graffiti per esempio non vanno mai sul volto delle persone non vanno mai a disturbare la rappresentazione del volto sia esso il volto della Vergine del Bambino o del Cristo dei Santi o anche dei personaggi laici piuttosto vengono realizzati intorno che non sulla area che rappresenta in qualche misura vuoi il sacro vuoi qualcos'altro come un ritratto ad esempio Sant'Ariestelle si trova in Valpantena poco distante da Verona si tratta di una struttura un po' particolare perché si tratta di un acquedotto che è stato cristianizzato e dove noi abbiamo nella maggior parte dei casi delle mani di scriventi che presentano degli elementi comuni elementi comuni significa che non siamo in presenza come a San Zeno o nella cassa reliquiario di uno scrivente che scrive per conto di qualcun altro e quindi un elenco di nomi siamo in presenza di scriventi che hanno evidentemente imparato a scrivere in uno stesso ambiente e se non è uno stesso ambiente possono avere imparato a scrivere in una area dove esisteva una scrittura dominante che per quello che noi possiamo vedere è prevalentemente la scrittura che prende il nome di corsiva o corsiva nuova gli scriventi vedete qui appartengono a una serie di come dire sono prevalentemente dei presbiteri da Osperto Leuperg Gundemart Odelberto Giovanni eccetera eccetera Andrea Pietro Ermenolfo Domenico Ursiberto Leoprandi e chi più ne ha più ne metta si tratta prevalentemente di presbiteri cioè di qualcuno che si muove all'interno di una comunità e all'interno di una comunità legata in qualche modo alla chiesa e che quindi ha imparato a scrivere anche qui con scritture che sono e che possiamo riferire a un ambiente ecclesiastico quindi un ambiente di copisti gente che sapeva scrivere sono pochi i laici sono pochissimi la cosa che colpisce è che mentre tutti i presbiteri lasciano la qualifica i laici non hanno nessun interesse salvo come vedremo probabilmente uno che invece lascia la sua qualifica ed è un laico la maggior parte di queste scritture per esempio questa è la mano di Adelberto va bene è legata come vedete a una scrittura che ci si può aspettare di trovare all'interno di un libro manoscritto in linea di massima potremmo aspettarci di trovarlo all'interno di un libro manoscritto in alcuni casi si tratta di scritture molto rapide per esempio qui vedete abbiamo la sottoscrizione di un Adelberto all'interno volevo provare a spostare scusatemi adesso non vorrei fare un disastro ma vorrei provare a eliminare a spostare questo però io so che adesso potrei fare delle cose terribili infatti l'ho fatta e adesso ritorno indietro rivedete il powerpoint si benissimo allora abbiamo dei sottoscrittori o degli scriventi qua vedete le loro qualifiche che si muovono però non solo all'interno dell'ipogeo di Santa Maria e Stelle ma in alcuni casi sappiamo anche che si muovono in altri contesti quindi non sono soltanto delle persone che stanno lì che arrivano scrivono e poi se ne vanno perché siano arrivati lì questo poi lo vedremo successivamente in alcuni casi per esempio il buon Adelberto noi abbiamo degli scriventi che sono presenti anche nel documento per esempio il nostro Adelberto qui presenta degli elementi molto vicini a questo qui Adelberto su diacono che poi fa carriera evidentemente diventa diacono va bene le caratteristiche della scrittura il modo di scrivere il modo di inserire le lettere il modo di tracciare le lettere e via di questo tenore ci fanno ritenere che queste due scritture appartengano ad un unico ad un'unica persona e che questa unica persona sia stato sia sottoscrittore di documenti qui vedete per l'appunto un esempio di corsiva nuova ma che poi nella sua fase mentre era in carriera va bene quando era ancora un suddiacono a Santa Ariestelle lascia il suo bel graffitino oppure qui abbiamo l'impegnativo caso di Giselberto questo Giselberto noi sappiamo che è un altro personaggio che si muove tra Santa Maria Estelle e si muove tra si muove anche nella documentazione di Verona siamo nei primissimi del nono secolo e come vedete abbiamo degli elementi anche in questo caso che ci fanno pensare che il nostro Giselberto graffitaro compulsivo abbia anche lasciato la sua firma in un documento e il documento come vedete è un documento privato peraltro mi pare che si tratti di una vendita certo quello che possiamo dire guardando la scrittura del povero Giselberto è che tutto sommato rimane ad un livello non particolarmente elevato e si tratta di uno scrivente che non si allontana dall'elementare di base probabilmente non usa molto la scrittura va bene probabilmente quasi sicuramente anzi perché qui dobbiamo immaginare un taglio probabilmente il nostro Giselberto non è avvezzo alla scrittura e rimane al livello di elementare di base però sempre corsiva nuova cioè la scrittura più antica se così possiamo dire siamo anche in questo caso ai primi del nono secolo mi aspetterei di trovare in ambito ecclesiastico visto che Verona è il primo centro in Italia ad accogliere la scrittura carolina mi aspetterei una risposta piuttosto rapida una risposta piuttosto rapida che invece non riusciamo a percepire con immediatezza abbiamo altri scriventi che sono che scrivono bene perché certamente non possiamo dire che Vitalis o Gundeberto o il buon Giovanni siano dei cattivi scriventi sono bravi sono bravi come scriventi però non adeguano la loro scrittura a quello che sta entrando cioè non dimostrano di avere ancora accolto e recepito quello che è in ingresso se poi dovessimo guardare nel corso della fine dell'ottavo secolo le sottoscrizioni e dovessimo in qualche modo dividere la documentazione qua io ho fatto una cosa brutale Longobardi e Carolingi va bene Longobardi e Carolingi nel senso che c'è una cronologia 774 ante sono documenti prodotti all'interno di un notariato Longobardo per Longobardi post 774 quindi con l'arrivo di Carlo Magno le cose cambiano ma cambiano anche tanto va bene cambiano tanto però diciamo è una scrittura che se dovessimo fare una somma delle sottoscrizioni dell'ottavo secolo prima e dopo il 774 beh le sottoscrizioni carolinge nel secolo ottavo sono molto poche però siamo in presenza di un numero piuttosto basso di anni per dare una buona valutazione se dovessimo poi andare a fare un ulteriore ragionamento cioè i Longobardi che sottoscrivono ora bene ora male ora da mettersi le mani nei capelli i documenti tra il 700 e il 773 in Italia settentrionale chi sono e soprattutto scrivono sempre come autografi o c'è qualcuno che scrive per loro perché se qualcuno scrive per conto di qualcun altro c'è da ritenere che qualcun altro nella maggior parte dei casi non abbia nessuna conoscenza della scrittura andando a fare l'esame delle sottoscrizioni che cosa possiamo osservare che la maggior parte dei laici fa scrivere cioè sono allografi questi questi laici qualcuno scrive per loro la in termini di autografia abbiamo un nucleo abbastanza basso va bene gli ecclesiastici allografi sono veramente pochi gli ecclesiastici autografi diversamente è un numero decisamente più elevato non ci deve stupire questa proporzione quanti sono gli ecclesiastici che sono presenti nella documentazione e quanti sono i laici negli atti di compravendita le sottoscrizioni testimoniali sono prevalentemente legate a laici la documentazione gli atti di compravendita si svolge prevalentemente tra privati poi abbiamo naturalmente una parte che si svolge tra beni ecclesiastici e laici per cui guardando questo schema non dobbiamo pensare gli ecclesiastici sanno scrivere meno dei laici no è la documentazione che ci testimonia una inferiore presenza di ecclesiastici rispetto ai laici fermo restando questo come dire questa proporzione quello che colpisce è che rispetto ai laici gli ecclesiastici sanno scrivere e questo come dire la scoperta dell'acqua calda in qualche misura va bene andiamo a vedere invece i carolingi io mi aspetterei i carolingi un po' più sempre detto la riforma della scuola si deve in produzione della riforma della scuola si deve a Carlo Magno e mi aspetterei di avere schiere di scriventi al seguito andiamo a vedere anche qui che cosa accade i laici autografi sono il 35% gli allografi come vedete sono una una quantità di tutto rispetto gli ecclesiastici autografi sono praticamente tutti non abbiamo ecclesiastici allografi che cosa ci dice questo ci che indicazione ci fornisce questo ci dice intanto che i laici i carolingi non sapevano scrivere la maggior parte di loro evidentemente presenti nella documentazione va bene non avevano capacità grafica ma questo diciamo si pone in relazione con quello che succede anche con i longobardi non dobbiamo immaginare i longobardi come super scriventi va bene dobbiamo immaginare che più o meno siamo lì ma certamente colpisce il dato che nella documentazione i sottoscrittori carolingi appartenenti anche all'elite non avessero nessuna capacità scrittoria o pochissima capacità scrittoria arriviamo nel nono secolo nel nono secolo io mi aspetto di trovare è una massiccia presenza di sottoscrittori autografi carolingi e invece come potete osservare il quadro è impressionante perché i laici che fanno che non sanno scrivere e che fanno scrivere da qualcun altro la propria firma bene sono il 69% è una percentuale molto elevata le sottoscrizioni laiche autografe sono una percentuale ridotta gli ecclesiastici come di consueto hanno una praticamente straripante presenza di scriventi autografi a fronte di pochi scriventi che non sono invece ecclesiastici autografi che cosa ci fa pensare questo ci fa pensare scusate mi sono andato un po' avanti ci fa pensare che in effetti c'è un problema c'è un problema di 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 alfabetismo probabilmente ponendo anche a confronto la documentazione Longobarda dell'Italia settentrionale con la documentazione Longobarda dell'Italia meridionale possiamo dire che la capacità degli scriventi Longobardi autografi non sia stata mai da come dire gridare al miracolo va bene però sapevano scrivere magari elementari di base ma sapevano scrivere le aristocrazie più o meno scrivevano l'arrivo della diciamo l'onda d'urto della presenza carolingia in Italia settentrionale almeno con il nono secolo perché i carolingi non importano solo la loro cultura diciamo figurativa libraria eccetera eccetera ma anche quella notarile poi una più diffusa cultura di elementari di base quello che possiamo dire è che in definitiva nell'Italia settentrionale l'impatto della nuova cultura abbassa in maniera sensibile l'alfabetizzazione l'alfabetismo sociale mantiene fermo l'alfabetismo in ambito ecclesiastico diversamente quello dei laici tende a scendere verso il basso facendo tutte le dovute le dovute come dire statistiche sulla base di questo che noi abbiamo parliamo peraltro di centinaia 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 di documenti cioè la produzione documentaria dell'Italia è talmente importante che ci permette di fare questo tipo di studi poi naturalmente cominciamo invece ad avere un primo timido ingresso delle scritture di altra provenienti da altre zone e in particolare delle scritture provenienti dall'ambito della scrittura Carolina anche se siamo alla fine del nono secolo come potete osservare all'interno di questo documento di questa scrittura chi scrive nella nuova scrittura è sostanzialmente uno gli altri sono tutti scriventi che tendono con eccezione del mio uno che indica chiaramente di aver capito che è arrivata una nuova scrittura gli altri diversamente sono invece degli scriventi che sono fermamente agganciati alla corsiva nuova cioè in altre parole non si sono mossi di un millimetro andiamo adesso a Verona a Verona invece le cose sembrano essere totalmente diverse a parità di cronologia 887 siamo a Novara quindi siamo mi aspetterei 887 questo è un documento che riguarda una transazione avvenuta all'interno di beni ecclesiastici mi aspetterei di trovare una maggiore o più rapida forma di adeguamento alla nuova scrittura le sottoscrizioni che io vedo invece autografe mi indicano tutta altra cosa Verona ecco qui vedete gli esempi delle scritture delle scritture delle sottoscrizioni per l'appunto il notariato e anche chi firma sembra invece contrariamente ad altre aree ma vi ho detto attenzione perché Verona è la porta d'ingresso della minuscola Carolina in Italia settentrionale le carte di Verona ci indicano un adeguamento alla nuova scrittura già con la seconda metà del nono secolo cioè i notai si stanno spostando verso la nuova scrittura intorno agli anni sessanta più o meno noi vediamo il notariato e vediamo anche gli scriventi ordinari progressivamente muoversi verso la nuova scrittura abbandonare la corsiva nuova e per quanto riguarda poi qui lo vediamo sia in questo documento e qui ancora di più va bene questo è un archidiacono va bene vediamo qui lascia la sua firma ci dice chiaramente che intorno alla metà del nono secolo chi si muoveva all'interno della struttura ecclesiastica sapeva già scrivere in minuscola Carolina scusate l'interruzione bevo un po' d'acqua gli ecclesiastici quindi si muovono in maniera precoce rispetto ai laici verso la nuova scrittura saranno stati i manoscritti che recano i Vangeli i testi nel Vecchio e Nuovo Testamento secondo alcune teorie ad aver veicolato la scrittura Carolina e quindi gli ecclesiastici l'hanno vista prima degli altri più tutte le altre varie teorie non lo possiamo escludere sta di fatto che i nostri ecclesiastici dimostrano già di aver cambiato il loro sistema a Piacenza vediamo anche qui ci troviamo in Italia sempre settentrionale le variazioni scrittorie nel corso del nono secolo in Emilia o in generale nella pianura padana va bene noi troviamo un nucleo molto importante di sottoscrittori autografi per il nono secolo più di 500 sottoscrittori autografi e anche qui quello che possiamo vedere è che mentre i notai non ci pensano un minuto a muoversi verso le nuove scritture abbiamo molte sottoscrizioni di notai abbiamo diversamente invece un po' di laici che imparano già la nuova scrittura per esempio vedete qui il povero Valperto Rogatus Subscripsi bene Ermerico Rogatus Subscripsi questo lasciamo perdere perché fa un disastro fa come dire un scempio della scrittura però nel fare scempio della scrittura dimostra di aver in qualche modo visto la nuova scrittura che è entrata quindi che cosa possiamo dire in altre parole per esempio anche qui vedete il buon Pietro Rogato cioè interviene nel documento il notaio diversamente che è il notaio del documento a differenza del buon Pietro utilizza una scrittura totalmente legata alla consuetudine longobarda delle scritture cioè la corsiva nuova che significa che gli scriventi di professione cioè quelli che fanno della scrittura il loro sistema di vita e mezzi di sussistenza hanno un codice scrittorio che fa fatica ad adeguarsi diversamente chi invece non deve perché non è obbligato mantenere un certo tipo di scrittura sembra essere più attento agli sviluppi di quello che sta succedendo intorno a sé adesso qui io ho fatto un'impietosa tabella che come dire non vi vorrei uccidere con questa tabella però quello che noi possiamo vedere qui è che i notai scrivono con le scritture come dire di tradizione ante 774 la corsiva nuova diversamente i presbiteri per esempio un presbitero Paolo a Piacenza scrive in Carolina poi abbiamo qua il buon peredeo un chierico che scrive in minuscola di base corsiva un presbitero ancora minuscola di base corsiva quindi siamo come dire in una fase in cui ci si sta muovendo o in alternativa si sta fermi serenamente dove meglio si stava per esempio sempre più andiamo avanti con la cronologia più la minuscola Carolina si sposta nell'ambito degli scriventi di ambito ecclesiastico e dall'altra parte troviamo invece delle degli scriventi ancora come dire restigli ad adottare il nuovo sistema Pietro è un notaio è uno scabbino scrive a nonantola fine del nono secolo minuscola corsiva cioè la tradizione longobarda vedete le scritture esprimono pienamente quello che stava accadendo in Italia settentrionale adesso invece voglio vedere un'altra faccio vedere un'altra cosa intanto che cosa possiamo dire da questa da questa da questa carrellata di immagini che vi ho fatto vedere che gli scriventi che si muovono fuori dalle scritture del libro e del documento quindi le scritture vincolate per intenderci hanno la possibilità di aderire immediatamente o lentamente ai nuovi modelli scrittori i professionisti della scrittura per ragioni che possono essere legati al notariato quindi notariato di scuola o copisti quindi copisti ecclesiastici devono adeguarsi volenti o nolenti tutti gli altri si possono muovere con estrema libertà e naturalmente con la fine del nono secolo la scrittura diventa per forza diventa un elemento di qualifica degli scriventi perché i laici progressivamente si allontanano dalla scrittura gli ecclesiastici non si sono mai mossi dall'uso della scrittura quindi tutto sommato le cose riangono così come sono sebbene i laici dimostrino un progressivo allontanamento dalla scrittura non tutti è beninteso ora mentre il nono secolo e il decimo secolo ci indica come la scrittura minuscola Carolina sia sostanzialmente estranea agli scriventi laici non professionisti le sottoscrizioni ci fanno vedere come la scrittura Carolina non sembra attivare nessun ampliamento in termini di alfabetismo della società cioè pochi erano e pochi sono rimasti semmai attiva un processo contrario si ottiene una diminuzione degli scriventi la super specializzazione del resto della scrittura Carolina sembra spingere un pochino i pochi laici scriventi ad abbandonare la scrittura progressivamente ma a fronte di questo si crea un altro fenomeno possiamo dire quasi un po' schizofrenico va bene cioè alla fine del nono secolo la divaricazione tra scrittura dei laici e scrittura degli ecclesiastici è pienamente marcata gli ecclesiastici si muovono sulla Carolina i laici si muovono sulla corsiva nuova mondi che non sembrano fra di loro comunicare i laici poi come dire aggiungiamo qua un questi i laici ci indicano questo progressivo allontanamento ma nello stesso tempo vediamo che le aristocrazie in qualche modo cercano di allinearsi agli usi della nuova scrittura cioè che cosa succede che quelle fasce medie della società medio-medio-basse che avevano più o meno sempre scritto che in qualche modo riuscivano a tenere lo strumento scrittorio in mano e lasciare una firma da qualche parte questi si allontanano diversamente le aristocrazie invece nel corso del decimo secolo sembrano essere più sensibili alla nuova scrittura cioè in qualche modo sembrano adeguarsi alla nuova scrittura ma anche qui ci poniamo il problema si adeguano o qualcuno insegna loro ad adeguarsi a una nuova scrittura cioè è una precisa volontà di adeguamento o diversamente come sospetto io è chi insegna loro che propone la nuova scrittura per cui le aristocrazie di fatto non imprimono alla scrittura un qualcosa di nuovo sono come dire si rinnovano per riflesso perché chi insegna loro ha già una nuova scrittura detto questo le aristocrazie come vi ho detto all'inizio non è che sapessero scrivere moltissimo qui abbiamo un ottimo conte Comes va bene abbiamo e qui come potete osservare insomma ha fatto una guerra con lo strumento scrittorio e naturalmente ne è uscito sconfitto va bene e lo stesso Ugo anche qui Comes Interfui la N la scrive ribaltata eccetera eccetera cioè tentano di scrivere ma usano la minuscola Carolina che è già arrivata per cui sanno che c'è questa scrittura perché qualcuno ha insegnato loro a scrivere con questa scrittura ma non hanno nessuna capacità grafica e questo io devo dire che lo trovo veramente strepitoso è la sottoscrizione scusatemi di un una sottoscrizione dove vedete che il buon Ugo Marchionis subscripsi e qui come dire anche il povero Ugo è uscito sconfitto dallo strumento scrittorio che pertanto era piccinino perché era uno strumento di dimensioni ridotte si è pensato e si è detto che il modo di scrivere così ampio così grande prendo il puntatore laser questo segno signum crucis si chiama va bene e come vedete la scrittura del povero Ugo Marchione è gigantesca rispetto a tutte le altre e si è detto ma scrivono grande perché devono rappresentare il loro ruolo sociale ma io vi faccio un'osservazione molto semplice un bambino piccolo quando inizia a scrivere non scrive con le letterine piccole scrive con delle lettere gigantesche perché deve imparare a maneggiare lo strumento scrittorio che cosa ci dice la firma del povero Ugo Marchionis ci dice molto Marchio ci dice molto semplicemente che lui non sapeva scrivere è rimasto all'elementare di base la grandezza delle lettere esprime la sua incapacità non è capace di scrivere e lasciamo perdere quest'altro e quest'altro ancora cioè non ce n'è uno qua se non qua abbiamo un umile episcopo va bene episcopo umile è una contraddizione in termini abbiamo degli scriventi invece che sono scriventi appartenenti alle aristocrazie non sanno scrivere aumentano le dimensioni della scrittura come accade a chi sta imparando a scrivere probabilmente nel corso della loro esistenza non cambiano neanche di una virgola il loro sistema di scrittura in altre parole la scrittura dei degli scriventi non professionisti in Italia settentrionale che cosa ci racconta ci racconta una storia totalmente differente dalla storia del documento e del libro ci racconta la difficoltà ad adeguarsi alle nuove scritture si dice che esistono delle scritture di categoria ci dice che esistono scriventi che non vanno al di là della propria firma si limitano a quello ma la sanno fare bene quando cambiano le condizioni cambia la cultura la cultura scrittoria con l'arrivo dei carolingi cambia questa categoria di scriventi si allontana dalla scrittura cessa come dire di essere attiva e questo lo vediamo anche per i graffiti perché i graffiti li possiamo seguire ottavo nono secolo e poi progressivamente vanno scemando quindi attraverso l'esame delle scritture poste fuori dai classici e grandi contenitori cioè la scrittura del documento e la scrittura del libro ci permette di guardare in modo diverso questi alfabeti alto medievali questi alfabetizzati questi individui noto per inciso che non abbiamo sottoscrizione autografe di donne se non credo una e questo non ci fa molto piacere ci dà un'indicazione precisa che l'alfabetismo sociale è parallelo ma non sempre allineato all'alfabetismo degli scriventi di professione punto primo punto secondo le aristocrazie non hanno bisogno di scrivere hanno chi scrive per loro notai e copisti quindi tutto sommato possono serenamente fare a meno di dover continuare a utilizzare la scrittura d'altra parte conosciamo anche casi di notai che sono stati promossi sul campo a livello di aristocrazia e che hanno cessato di scrivere grazie adesso naturalmente mi accapiglierò ancora un pochino con il puntatore laser grazie mille diciamo sono momenti in cui si capisce qual è il motivo per il quale facciamo questo questo lavoro e questa iniziativa nel senso che si è trovato interessantissima questa questa lezione anche che un analfabeta come un analfabeta in senso capisco che qui non è renominato ma insomma un analfabeta come me su questi temi quasi pensava che la paleografia fosse come dire più l'attenzione alla scrittura che a quello che ci fosse scritto dentro invece invece ovviamente ci ha fatto capire che ci stai facendo capire che non è così ho trovato questa lezione di estremo interesse adesso però al di là delle cose che posso dire io lascerei la parola alle persone ai nostri diciamo frequentatori e in particolare vedo già una domanda del di un di un partecipante data in chat dice il centro di radiazione della cultura della scrittura carolina non dovrebbe essere pavia allora questa è una domanda molto interessante intanto perché noi quello che sappiamo è che per quanto riguarda l'ingresso della scrittura minuscola carolina in Italia come ho detto prima è la città di Verona come sua scrittoria che ci dà la ci dice perché lì abbiamo la prima grande trasformazione della scrittura ci dice che la scrittura è arrivata ed è arrivata per l'appunto a Verona per quanto riguarda Pavia anche questo poi diventa destinato a divenire un centro di produzione dei libri manoscritti però gli scrittori principali scrittori in Italia settentrionale nella fase iniziale sono sostanzialmente quelli che fanno capo a Verona Verona anche perché Verona aveva una forte rete di comunicazione monastica ed ecclesiastica con monasteri d'Oltralpe i quali già erano attivi con la minuscola carolina quindi per questo io ho detto Verona è un po' la porta di ingresso della minuscola carolina per quanto riguarda il passaggio della scrittura minuscola carolina nella scrittura del documento questo invece è un passaggio molto lento che il notariato italo-settentrionale fatica e un po' a chiazze però perché il processo non è sempre come dire un unico blocco che si muove in una stessa direzione ma con false partenze battute dal resto ripensamenti nell'adozione delle scritture e poi i cambiamenti vi faccio il caso di Piacenza i notai piacentini intorno alla metà del nono secolo sembrano accorgersi dell'esistenza della minuscola carolina abbiamo tanti sottoscrittori alcuni notai che cominciano a scrivere in minuscola carolina improvvisamente ci ripensano abbandonano questa scrittura e questo ha naturalmente un parallelo con tutto il quadro storico che bisogna naturalmente poi calibrare e calare questi fenomeni nell'evoluzione anche nella realtà dell'Italia settentrionale che era piuttosto turbolenta nella seconda metà del nono secolo quello che possiamo vedere è che a un certo punto questo notariato tira il freno a mano torna sulle scritture di antica tradizione longobarda e alla fine del nono secolo capitola e adotta la nuova scrittura carolina ma lì avevano poche scelte o così o così tutto sommato però ecco il centro di pavia pavese ecco gli scrittori a pavesi come centro di radiazione hanno anche queste partenze e rallentamenti Milano per esempio è un altro centro che produce libri manoscritti eccetera eccetera ma il grosso è costituito da da Verona grazie a questo punto non essendoci domande scritte lascerei anche la parola alle domande diciamo dei partecipanti fatti oralmente prego se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa deve essere tutto assolutamente chiaro oppure talmente ingarbugliato che non si riesce a è stata messa molta passami la semplificazione anche molta carne al fuoco è anche molto preciso dal punto di vista socio linguistico insomma che è un tema sempre molto importante che abbiamo trattato anche su altri temi in altri contesti Michele vuoi chiedere tu qualcosa? sì alcune curiosità e alcune osservazioni ma la curiosità prima di tutto tu hai parlato molto dell'Italia del nord mi ha molto colpito per esempio il fatto che il città che oggi vengono dette così sono di secondo livello in Italia come Perona o Piacenza o anche Pavia rispetto a Milano Bologna ecco rivelano in questo contesto una importanza maggiore quindi quando parliamo dell'Italia anche il fatto che ci siano tantissime città che sono competono come capitale si vede anche da questi casi ecco e la curiosità che mi viene da chiedere e che succedeva in quel periodo in quel periodo nell'Italia centrale o nell'Italia medionale e questa scrittura Carolina entrava oppure questo e l'altra cosa che mi ha incuriosito e quella tua osservazione lasciata cadere lì che è molto importante è che i nobili non si dessero da fare nel coltivare la scrittura lasciandola ai subalterni questo non lo sapevo pensavo che almeno nella parte nobile ci fosse un'attenzione a un assumento però questo valeva i nobili ma non valeva sicuramente per quelli che erano comunque in qualche maniera anche i nobili che erano i monaci credo nei monasteri la scrittura era sempre considerata una cosa molto importante e poi si avevano tante cose ma non vogliono monopolizzarli e grazie di questa bella lezione grazie allora intanto rispondo immediatamente alla prima domanda cioè l'Italia centro-meridione la minuscola Carolina arriva in Italia ma ha una bella precisa linea di confine che noi mettiamo a sud della città di Roma e che vede si taglia sostanzialmente l'Italia in due per cui abbiamo l'Abruzzo a sud di Chieti va bene e poi immaginiamo una linea virtuale che scende a Roma scusate mi scende a sud di Roma e che si colloca nella zona immediatamente a nord dell'area di Monte Cassino va bene da lì in giù la scrittura è sì no Carlo Bagno era un alfabeta scusate leggevo nella chat la scrittura la scrittura è un'altra scrittura una scrittura di tradizione longobarda che è la stessa che noi avevamo in Italia settentrionale con la differenza che in Italia meridionale questa scrittura che oggi prende il nome di scrittura beneventana ma che fino a qualche tempo fa veniva chiamata longobarda longobardisca eccetera eccetera è una scrittura che rimane e che non è mai sostituita dalla Carolina viene sostituita dalla scrittura gotica che però è portata dai normanni che vengono da sud quindi come dire i longobardi ce le prendono perché arrivano i normanni con un'altra scrittura arrivano i cistercenzi cambiano le regole del gioco ma in Italia meridionale la scrittura libraria documentaria e dei sottoscrittori non cambia rimane una scrittura di tradizione longobarda d'altra parte i longobardi italo-meridionali erano un po' come dire duretti nel voler accogliere i carolingi si erano sottomessi ma come ben sappiamo appena riuscivano ad acciuffare un imperatore lo mettevano al gabbio questo non era molto ben visto da parte degli imperatori per quanto riguarda l'aristocrazia è vero le aristocrazie hanno in dotazione un apparato amministrativo che è costituito da un notariato da giudici giudici di palazzo giudici di alto livello e notai notai di palazzo si firmano notaio e giudice palatino eccetera eccetera che sono per l'appunto dedicati alla scrittura scrittura del documento della diciamo della documentazione pubblica e via dicendo il che mette in qualche misura le aristocrazia in condizione di non doversi o di non porsi il problema di scrivere o di non scrivere scrivono poco e rimangono a un livello quasi elementare di base noi abbiamo per esempio dei casi di famiglie dei quali riusciamo a seguire la progressione per cui mentre i nonni va bene è un gruppo che si muove nella zona del chietino in questo gruppo noi vediamo che alcuni di questi scriventi più risalenti scrivevano in elementare di base mettevano delle firme così un po' difficili da inquadrare anche dal punto di vista della tipologia della scrittura poi in un umano i discendenti in qualche misura imparano a scrivere ma non diventano scriventi rimangono sempre a galleggiare perché c'è chi lo fa per loro ecco e quindi non c'è una effettiva necessità ma i nobili leggevano però o no o nemmeno no c'era una bella tradizione di lettura di recitazione e di narrativa cioè non c'erano i manoscritti in biblioteca privata la biblioteca la biblioteca come dire come noi la intendiamo principesca la biblioteca legata alle aristocrazie il fenomeno che che prima deve passare attraverso come dire il setaccio a maglie strette della rialfabetizzazione della società e poi da lì ricominciamo ad avere queste biblioteche prima abbiamo dei codici tesaurizzati pieni di belle pietre preziose però ci siamo con un'altra domanda l'analfabetismo che al nord nel nono decimo secolo raggiungeva se non ricordo male il 70% come era nel sud normanno intanto dobbiamo aspettare un pochino che ritorni l'alfabetismo in Italia meridionale per l'ottavo nono secolo un alfabetismo piuttosto elevato come autografo cioè scriventi autografi ma non erano scriventi con grandissime capacità scrittorie un po' quello che vediamo nell'Italia settentrionale cioè il quadro si corrisponde però mentre in Italia settentrionale più o meno smettono di scrivere in Italia meridionale continuano a scrivere noi abbiamo delle testimonianze molto belle di graffiti di graffiti di Longobardi per esempio a Monte Sant'Angelo abbiamo questi graffiti straordinari e sono tutti autografi e sono tutti prodotti di nono nono fine nono secolo e via dicendo c'è ancora una forma di alfabetismo che però fa parte della cultura del notariato Longobardo che è una cultura potentemente dedicata anche alla scrittura cioè il notariato in Italia non molla mai la presa da quando come dire si scardina il sistema amministrativo romano poi con i goti poi con i Longobardi i Longobardi utilizzano i documenti e questo significa che c'è un alfabetismo in qualche misura più o meno di riflesso a livello sociale in Italia meridionale è così con l'arrivo dei Normanni ma dobbiamo spostarci un pochino in là rispetto alla cronologia nono decimo secolo con l'arrivo dei Normanni io devo dirle la verità per quello che conosco io la c'è un po' una battuta dal resto come di consueto cioè ci si ferma e poi si ricomincia a scrivere però poi arriviamo alla nascita dell'università e quello veramente varia il quadro ed è quella la grande trasformazione perché i laici ritornano a scrivere in maniera massiccia ecco quindi allora c'è una mano alzata prego si eccomi salve no il professore il professore Abrufi ha anticipato tutte le mie domande che avevo anch'io la ringrazio no anch'io sono rimasta molto meravigliata del fatto che la classe aristocratica non sapesse scrivere e tra l'altro mi vengono in mente due considerazioni a il ruolo delle donne rispetto alla scrittura in queste famiglie aristocratiche no e c che tipo di educazione era riservata alle donne poi il collegamento con il sacro sì allora per quanto riguarda la scrittura cosiddetta la scrittura femminile la scrittura delle donne esiste un progetto molto bello che ha censito i manoscritti scritti da donne e non c'è alfabetizzazione diffusa nella ricognizione fatta sui documenti di un centro che è un centro importantissimo per la conservazione dei documenti che è quello di Piacenza è un caso che io conosco molto bene perché è uno dei casi macroscopici di produzione documentaria poi c'è anche Luca e via dicendo però veramente Piacenza sbaraglia da sola un po' tutto il resto nel corso del decimo e dell'undicesimo secolo le sottoscrizioni autografe femminili non ci sono semplicemente d'altra parte anche nei periodi precedenti noi abbiamo pochissime testimonianze di donne in grado di scrivere abbiamo pochissime testimonianze di monasteri femminili in grado di produrre manoscritti parlo dell'alto medioevo cioè in altre parole l'educazione grafica delle donne era un non problema semplicemente non c'era noi conosciamo per esempio il caso di una donna che si chiama Duoda siamo in ambito Franco e di lei sappiamo che sapeva scrivere perché c'è un manoscritto che ci dichiara che savesse scrivere sappiamo per esempio che la regina Anza la moglie del re desiderio l'ultimo re Longobardo aveva in qualche modo interagito con quella straordinaria figura che Paolo Diacono il grande come dire cantore della storia nella storia Longobardorum delle gessa dei Longobardi aveva proprio chiesto in qualche misura di poter attivare un processo di scolarizzazione ma questo non coinvolgeva le figure femminili c'è un buio un pochino guardi le donne tornano a scrivere come copiste con il sistema universitario è il momento in cui le donne ricompaiono il che non significa siano studentesse significa sono copiste per produrre manoscritto grazie allora poi un'altra domanda leggo sui giornali che i bambini nel mondo avanzato stanno perdendo l'abilità di scrivere a mano e che fra pochi anni questa capacità non sarà più richiesta che lettura dare beh questa è una cosa molto bella perché cioè molto interessante molto interessante questa domanda e le posso rispondere immediatamente perché noi siamo abituati a scrivere con uno strumento scrittorio sulla carta io vedo i miei studenti quando faccio lezione prendono appunti sul computer i pochi studenti che passano dal computer alla carta utilizzano le lettere staccando le lettere fra di loro perché per loro concettualmente le lettere sono dei singoli grafemi che vengono digitati o scritti quindi sta cambiando radicalmente l'atteggiamento verso la scrittura oggi si parla di analfabetismo di ritorno ok cioè ridotta capacità di autografia e digital invece di battitura della tastiera però magari gli spazi tra le lettere sono precisi nel senso che uno spazio di più uno spazio di meno cambia qualcosa no no sono molto precisi su questo devo dire che è molto interessante questa grazie si alfabetizzate di cui abbiamo parlato cioè notai per ovvi motivi presbiteri o ecclesiastici diciamo per altri motivi poi quali sono state le prime altre classi sociali per chiamarle così che diciamo hanno avuto necessità di frequentare la scrittura ecco beh allora intanto ci dobbiamo sostare radicalmente come dire lungo l'asse l'asticella del tempo è arrivare almeno al XIII secolo quando XII XIII secolo quando i primi laici che entrano massicciamente nell'uso della scrittura a prescindere dal notariato quindi parliamo di una categoria che con il notariato ha solo a che fare in quanto servono i notai sono i mercanti i mercanti introducono una nuova scrittura che prende il nome di mercantesca e che diventa una scrittura di categoria imparano a scrivere e trasmettono la loro scrittura di generazione padre figlio padre figlio creano scuole per i mercanti creano scuole dove imparare a far di conto introducono le cifre arabe introducono e usano massicciamente la carta è un mondo completamente a sé stante e sono i primi che reintroducono su vasta scala fuori dai copisti e fuori dal diciamo dal notariato per mantenere queste due grandi categorie la scrittura poi ci sono gli studenti e le università ben inteso ci sono degli scriventi che appartengono a categorie gruppi sociali che in qualche misura sanno scrivere però ecco bisogna aspettare il medio basso evo per avere questo del resto lo stesso Boccaccio prima scrive mercantesca poi conosce Petrarca e cambia la sua scrittura perché la mercantesca non fa non fa fine bene la scrittura dei mercanti la scrittura degli intellettuali è un'altra ok grazie c'è un'altra mano alzata prego buongiorno ringrazio tanto della lezione vorrei fare una domanda un po' particolare dai graffiti adesso non so se la scienza è proprio la grafologia si riesce a capire anche il carattere o diciamo la personalità della persona che ha lasciato il segno non so per esempio l'altra volta parlavamo delle carceri per cui mi immagino che sia comunque persone che siano inquiete in quel momento che probabilmente stanno scontando una pena eccetera piuttosto che lettere magari come abbiamo visto il cuore o altre cose che sono più romantiche eccetera per cui dai graffiti si riesce a capire anche la persona la personalità che c'è dietro a queste cose oppure demandato poi alla scrittura per cui con la pressione della penna con l'inchiostro eccetera ma guardi dal graffito è difficile allora intanto noi dobbiamo distinguere quella che è la nostra scrittura dalla scrittura già a partire dalle scritture cinque e sei scientesche dalle scritture ante 1500 e 1600 perché la autografia cioè chi scrive di propria mano è un fenomeno molto tardo rispetto alle scritture precedenti quindi per quanto riguarda i graffiti è difficile come dire poter individuare determinate caratteristiche si può si può capire il contesto di appartenenza dello scrivente è un mercante è un presbitero è un notaio è uno che non usa molto la scrittura quindi usa scrive poco e quindi sarà qualcuno che sicuramente si muove nell'ambito dell'artigianato o in un mondo di produzione commerciale perché gli serve di saper scrivere il minimo ma gli serve però è difficile ecco le dico dal graffito non emerge molto altro rispetto a questo in realtà per poter guardare la scrittura e cercare come lei mi chiede di interpretare attraverso il segno grafico l'individuo e la sua personalità questo bisogna veramente arrivare non dico al giorno d'oggi ma quasi ecco dove l'autografia che determina le caratteristiche della scrittura e questo però è una scienza come dire totalmente separata rispetto un po' alla paleografia ecco io le posso dire una mercantesca è qualcuno che si muove nell'ambito della scrittura mercantesca e abbiamo graffiti mercantesca grazie poi mi viene un altro pensiero il fatto che comunque la nobiltà in qualche modo abbia abbandonato la scrittura per un periodo perché c'era qualcun altro che facesse questo tipo di lavoro possiamo dire che oggi stiamo affrontando lo stesso periodo nel senso che comunque con i computer con le cose piano piano c'è qualcun altro che scrive per noi per cui i giovani come diceva prima i giovani d'oggi tendono più a utilizzare queste tecnologie piuttosto che a utilizzare carte e penne e mettersi lì a scrivere a fare tutto quanto anche perché permettono degli automatismi in qualche modo che correggono la stessa scrittura o comunque che gli permettono di essere più veloci nel lavorare sulla scrittura e sui testi le rispondo molto brevemente perché su questo io stessa quando preparo le mie lezioni all'università io ho detto al computer poi utilizzo la funzione di dettatura tant'è che ho tutte le lezioni che preparo dettando al computer magari in quel momento mi sto prendendo il caffè dopodiché detto la lezione perché so gli argomenti che devo preparare in base alle slide quindi ho la lezione così fatta e questo le devo dire anche spesso e volentieri prendo gli appunti dettando al computer o magari rileggo un articolo che sto scrivendo c'è qualcosa che mi convince poco sì adesso rispondo al livello di alfabetismo nell'alto medioevo c'è qualcosa che mi convince poco e intervengo con il tasto di dettatura quindi io sono anche io la prima a utilizzare poco in realtà non è vero io scrivo molto con la penna perché sono affezionata alla stilografica peraltro quindi sono una scrivente di stilografica altrimenti se mi devo sbrigare le dico che veramente mi rivolgo al computer senza mezzi termini cioè proprio due cliccate su FN e via con la dettatura quindi però le posso dire che anche gli studenti ormai utilizzano questo questo sistema d'altra parte come dire una grande rivoluzione questa con aspetti positivi e aspetti negativi ecco allora rispondo alla domanda di Enrico Carbone e nel resto dell'Europa qual era il livello di alfabetismo nell'alto medioevo bene questa è una bella domanda perché come vi ho già detto prima l'Italia in realtà l'Italia lungobarda è la sola realtà che mantiene un'elevatissima quantità di produzione scritta documentaria di produzione scritta in termini di documentazione pubblica e documentazione anche privata per cui tutto transita attraverso la documentazione scritta il che significa che noi possiamo seguire le tracce dell'alfabetismo fuori dall'Italia a parte alcuni centri monastici in realtà la produzione documentaria è molto contenuta ed è possiamo dire quasi prevalentemente spostata sull'ambito del pubblico cioè l'Italia ha mantenuto una tradizione di notariato una tradizione di documentazione scritta come dire che nelle orecchie si sente la voce dei romani va bene di una tradizione di documentazione scritta molto forte e questo fa sì che poi la tradizione documentaria e l'alfabetizzazione sia forte per tutta la fase lungobarda non è un caso che in Italia meridionale la produzione scritta sia gigantesca rispetto poi a parità di cronologia rispetto all'Italia settentrionale poi si riallineano poco bene grazie 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 mille allora grazie a presto a venerdì prossimo benissimo grazie a voi per le domande perché sono sempre come dire sulle città sappiamo già il tema di venerdì prossimo è venerdì prossimo vi delizierò un'altra volta con i graffiti ok benissimo grazie questa volta graffiti puri e duri però vedremo vedremo le scritture dei pellegrini questa volta va bene molto bene grazie allora grazie a tutti ciao 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 ciao